Benvenuti su News Cronaca. Nel video di oggi parleremo dell'insolito gesto affettuoso nei confronti di Beatrice Luzzi e la reazione di Massimiliano Varrese che ha spiazzato i telespettatori. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Il grande fratello VIP si conferma un teatro di emozioni e sorprese. Beatrice Luzzi, attrice nota per la sop Vivere, ha vissuto momenti di scoraggiamento all'interno della casa. Aggravati anche dalla sua relazione con Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, il sostegno dei suoi fan le ha permesso di ritrovare il sorriso. Infatti, l'attrice ha letto il loro sostegno attraverso un messaggio aereo che ha sorvolato la casa, portandole un'ondata di felicità. La scritta riportava, Bea resisti, l'Italia è con te. La sua reazione è stata di gioia pura, un'emozione genuina e contagiosa che ha illuminato l'atmosfera della casa. Proprio per questo motivo nonostante i precedenti litigi, Massimiliano Varrese ha mostrato un gesto di grande affetto verso Beatrice, abbracciandola calorosamente. Questa reazione ha spiazzato il pubblico e ha evidenziato un contrasto marcato con l'atteggiamento freddo di Giuseppe Garibaldi. E tu cosa ne pensi di questo avvicinamento tra i due? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.